omicidio ad ancona giovani di 26 anni a coltellato e ucciso fuori casa maltempo e mareggiate a sottomonte danni agli stabilimenti balneari covi 19 stabili nuovi contagi altre due vittime nel pesarese si intitola liberato il nuovo singolo del cantatore pesarese max casoli buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 9 dicembre questa sera apriamo con la cronaca e ci spostiamo ad ancona per vedere tutti gli aggiornamenti di questo efferato delitto che si è tenuto ieri l'omicidio di un 26enne avvenuto proprio ad ancona e allora vediamo subito questo primo servizio di daniele romagna è terminata con nove coltellate la vita di michele martedì parrucchiere di 26 anni residente ad ancona che nella tarda mattinata di ieri è stato ucciso da un coetaneo e conoscente mattia rossetti con il quale aveva condiviso i banchi di scuola un omicidio che si è consumato nel quartiere pinocchio del capoluogo di regione davanti agli occhi di alcuni testimoni mentre la vittima stava rientrando nella propria abitazione inutile il soccorso dei sanitari giunti sul posto le lesioni inflitte al 26enne dall'aggressore con un coltello a serramanico hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti anche i carabinieri di ancona che in pochi minuti hanno rintracciato l'omicida il quale dopo essere fuggito si era rifugiato a casa di alcuni conoscenti proprio dalle indagini avviate dalle forze dell'ordine per risalire al movente che ha spinto rossetti a compiere il tragico gesto sono emersi dettagli che lasciano presagire di un astio nei confronti della vittima già manifestato i giorni prima rispetto all'accaduto l'aggressore che pare soffrisse di problemi psichiatrici già da diverso tempo aveva caricato sui social un video nel quale accusava la vittima di essere irresponsabile di alcune vicende personali intercorse tra i due dichiarazioni legate alla sfera amorosa in cui martedì era accusato di aver rovinato una relazione sentimentale dell'omicida fino ad arrivare ad accuse improbabili e prive di senso rossetti tra le altre cose sosteneva che l'ex compagno di scuola fosse il responsabile dell'omicidio del cantante di una nota band inglese sempre grazie ai primi dettagli emersi dalle indagini dei carabinieri sembrerebbe che nel pomeriggio antecedente alla tragedia l'aggressore sarebbe uscito di casa minacciando di volersi vendicare nei confronti di martedì la madre del killer allarmata avrebbe prontamente contattato la polizia per rendere note le intenzioni del figlio le stesse forze dell'ordine poco più tardi si sarebbero recate a casa della vittima per informare la famiglia di quanto annunciato da rossetti informazioni che confermerebbero quindi le intenzioni dell'omicida messe in atto il giorno successivo dopo il fermo il killer ha confessato quanto commesso ed è stato arrestato dai carabinieri e adesso torniamo a pesaro perché il maltempo e le mareggiate che si sono verificate in queste ultime ore hanno fatto registrare diversi danni agli stabilimenti balneari nella zona di sottomonte questa mattina quindi siamo andati sul posto per vedere cosa è successo ci troviamo a sottomonte per documentare i danni registrati da diversi stabilimenti balneari della zona dopo il maltempo e le mareggiate che si sono registrate anche a pesaro l'acqua è arrivata fino alla pista ciclabile creando appunto diversi disagi e danni alle strutture di diversi stabilimenti le immagini immortalate e caricate sui social dal titolare di bagni due palme riccardo pascucci testimoniano un problema già noto ai gestori degli stabilimenti l'acqua che continuando a salire elimina metri di sabbia rappresenta un rischio non soltanto per cabine bar e tutte le strutture delle spiagge ma anche per la stabilità della ciclabile disagi per i quali è necessario trovare soluzioni anche in vista della preparazione per la prossima stagione come sottolinea il gestore di bagni margherita raniro dragomanni qui abbiamo avuto grosse marezzata questa grossa marezzata diciamo più acqua alta che grossa marezzata ma è arrivata alle strutture alla pedonabile alla ciclabile rovinando sgrottando portando via tutte le barriere che avevamo messo per per affrontare l'inverno quindi ci preoccupiamo anche per le future marezzate non avendo più delle barriere che ci proteggano le strutture ciclabile via dicendo cinque anni fa abbiamo avuto una grossissima marezzata sempre da levante ha divelto tutte le cabine lato sud pedonabile a rotola ciclabile grossi danni abbiamo dovuto rifare tutti i plinti in tutto il perimetro del bar ristorante rifare tutte le pavimentazioni ristorante docce cabine camminatoi abbiamo dove e abbiamo incollato alcune parti per paura che il mare potesse riportarle via è stato un grossissimo intervento lavorare d'inverno anche perché è successo a febbraio avevamo la stagione alle porte abbiamo dovuto lavorare anche sotto la pioggia sono situazioni che magari uno dal del fuori non riesce a entrarci dentro ma non è bello anche perché hai l'ansia di affrontare la stagione che non sei neanche pronto per poter partire e anche perché ogni anno il fine stagione vuoi investire per l'anno prossimo poi durante l'invernata hai sempre qualche sorpresa che in parte quasi ti penti di aver investito perché c'hai queste sorprese che devi dare le mani queste cose qui urge un intervento da mettere delle scogliere riposizionare ricaricarle fare un qualcosa fatto bene studiandoci sopra per affrontare le stagioni più serenamente anche perché ogni anno abbiamo questi problemi non abbiamo la sabbia abbiamo sempre questi 40 centimetri di sabbia che ci mancano siamo sempre a che a scusarci con i clienti coi cittadini via di è ora di schiantarla di di finire di andare avanti con un progetto unitario per tutti qui nella zona che stiamo soffrendo questa erosione è una delle zone più belle di peso a mio avviso abbiamo il monte abbiamo il mare che bello c'è silenzio cioè è un posto magnifico lasciarlo così un peccato le mareggiate hanno causato un arretramento della spiaggia anche lungo gli stabilimenti di viale trieste mentre diversi detriti sono stati ritrovati nel camminamento di lungomare nazareosauro e anche nella zona del porto dove grandi onde hanno imperversato anche nel fine settimana sempre a causa del maltempo ed ora il consueto spazio dedicato agli aggiornamenti del coronavirus il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.087 tamponi 1246 nel percorso nuove diagnosi 841 nel percorso guariti i positivi sono 229 nel percorso nuove diagnosi con 83 nuovi casi in provincia di pesaro urbino il servizio sanità informa inoltre che nella giornata di ieri si sono verificati quattro decessi due erano residenti nella provincia di pesaro urbino e che di altre cinque persone decedute nei giorni scorsi è stata definitivamente accertata la diagnosi di covid e questa mattina la giunta comunale ha annunciato di avere individuato cinque luoghi dove poter eseguire i tamponi rapidi in città per lo screening di massa annunciato proprio dalla regione l'importante attività di tracciamento partirà infatti dal 18 dicembre nei capoluoghi di provincia ai quali è stata aggiunta anche la città di urbino a pesaro quindi sarà possibile effettuare i tamponi presso la vitrifriguarena la palestra della celletta quella di baia flaminia la palestra del carducci e il palatré di villa ceccolini nello specifico la palestra della celletta e il palatré di villa ceccolini saranno dedicati anche alla fruizione delle persone con disabilità di forte attualità è senza dubbio in questi giorni il tema del vaccino per il covid 19 da giorni ormai si discutono infatti le soluzioni migliori per poterlo conservare in sicurezza e adeguatamente al suo arrivo in merito a ciò la rivacold nota azienda del territorio grazie alla produzione dei motori di refrigerazione per le celle frigorifere sarà determinante nella gestione nel trasporto delle dosi e allora ce ne parlano nel dettaglio in queste interviste il vicepresidente del gruppo VAG Alessandro Vitri e il responsabile del VRL Filippo Lucchetti VAG è composto principalmente da tre società queste sono Rivacold, Vitri Frigo e Rav Rivacold opera nel settore della refrigerazione realizziamo gruppi frigoriferi per diverse applicazioni quindi che vanno dai vari, diciamo nei mercati dell'oreca, nei mercati supermercati e medicale che è oggi un punto alquanto sentito Vitri Frigo invece è l'altra società dove realizziamo frigoriferi completi diciamo per il settore del hotel, camper, navigazione e anche in questo caso per il medicale soprattutto in ambiti portatili. Negli ultimi anni abbiamo investito anche nel laboratorio che l'abbiamo denominato VRL ovvero VAG Refrigeration Laboratory e qui realizziamo tutti i test per quelli che sono i gruppi sia di nostra realizzazione ma anche a supporto della nostra clientela per le varie classi energetiche per approvare varie classi energetiche e verificare logicamente le temperature. Inoltre tutti sanno che il gruppo è nato nel 1966, è stato fondato nel 1966 ed è in continua espansione anche in questo anno di difficoltà abbiamo continuato con la nostra serie di investimenti e di crescita ad esempio abbiamo realizzato, stiamo definendo di realizzare la mensa appunto per uso interno e quello che è il discorso di un nuovo fabbricato da 25.000 metri quadrati Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare spesso di vaccini che proteggeranno la popolazione dal Covid-19 e abbiamo sentito parlare anche di trasporti di conservazione di questi vaccini che variano a seconda della tipologia di vaccino nelle varie temperature. Tutti i vaccini come circa il 40% dei medicinali e del settore medicale va mantenuto a basse temperature con protocolli e regole molto più stringenti di altri settori legati alla conservazione di prodotti e alla refrigerazione In particolare i dati relativi alle prestazioni dei motori e delle macchine che permettono di conservare i prodotti devono avere standard molto stringenti, dati certi, ripetibili e sicuri Questo tipo di misurazioni possono essere fatti solo in determinati laboratori uno dei quali è il WAG Refrigeration Laboratory un polo di innovazione tecnologica e sperimentale unico nel panorama europeo pensato, sviluppato e realizzato da Rivacold insieme all'Università Politecnica delle Marche Proprio due anni fa abbiamo inaugurato questo polo all'interno del quale, unico nel suo genere, è possibile sviluppare e analizzare macchine frigorifere in tutte le loro parti cioè noi qua riusciamo a innovare, sperimentare e testare qualunque componente di un impianto frigorifero Ciliegina sulla torta due anni fa abbiamo chiesto e ottenuto l'accreditamento internazionale del laboratorio Ad oggi il laboratorio ha il marchio Accredia e Dilac e i test sviluppati secondo normativa in questo polo hanno valore legale in tutto il mondo I vaccini, come tanti altri prodotti medicali, hanno necessità di essere conservati a basse temperature che possono variare a seconda del processo con cui sono stati pensati e realizzati Noi in Rivacold siamo in grado di sviluppare sistemi frigoriferi o componenti per sistemi frigoriferi che permettono di conservare e trasportare componenti, quindi anche prodotti medicali da 0 gradi fino a meno 40 e abbiamo sviluppato anche progetti specifici per determinati clienti fino a meno 80 gradi centigradi In questo periodo stiamo provando a testare nel Vag Refrigeration Laboratory un mix di impianto frigorifero e ghiaccio secco che permette di mantenere la temperatura di meno 80 immersa nel ghiaccio secco per un periodo abbastanza lungo Inoltre concludo dicendo che nel Vag Refrigeration Laboratory è possibile testare e certificare classi energetiche ed etichettature energetiche di una vasta gamma di prodotti del settore della refrigerazione industriale proprio per questa particolarità è uno dei pochi laboratori in Europa che permette questo tipo di analisi L'arretramento della ferrovia è stato il tema principale dell'incontro svoltosi questa mattina tra il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e quello di Fano Massimo Seri insieme all'assessore Riccardo Pozzi nel quale i due primi cittadini hanno annunciato l'avvio di un tavolo di lavoro congiunto per presentare un unico progetto per entrambe le città in vista degli investimenti del recovery plan Tra i temi oggetto dell'incontro anche il secondo casello autostradale Fano Nord Soddisfazione espressa da Confartigianato Ancona, Pesaro Urbino e Confartigianato Trasporti per l'arrivo dei primi bonifici alle imprese che hanno lavorato sulla statale 76 l'augurio del segretario Confartigianato Ancona, Pesaro Urbino, Marco Pierpaoli è che entro i primi mesi del nuovo anno arrivi la seconda tranche di 40 milioni integrata con l'ulteriore stanziamento di 30 milioni Sono in arrivo a Mondolfo altri buoni spesa per fronteggiare l'emergenza Covid-19 più di 94 mila euro che verranno distribuiti ai soggetti più colpiti dalla situazione economica I criteri prevedono che l'importo del buono spesa sia erogato in base al numero di componenti per nucleo familiare Tutte le informazioni saranno disponibili chiamando i numeri dell'ufficio Servizi Sociali del Comune di Mondolfo ai numeri che state vedendo in sovraimpressione che sono stati poi messi a disposizione appunto dei cittadini La BCC di Fano ha messo a disposizione dell'USCA di Fano 100 nuovi saturimetri per la prevenzione e il monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2 con l'obiettivo di mantenere elevati gli standard di prevenzione e assistenza in un periodo in cui la maggior parte delle persone è costretta a casa Sabato 12 dicembre alle ore 18 nella Galleria degli Specchi dell'Alexander Museum Palace Hotel si svolgerà la tredicesima edizione del premio Raffaello che verrà consegnato a Carlo Pagnini L'ingresso sarà limitato a 40 persone per accedere all'evento quindi è prevista la prenotazione obbligatoria Ed ora ci spostiamo a Fano dal presepe nei giardini Roma al videomapping sull'arco d'Augusto che ritrae proprio le principali opere d'arte della città Il Natale più di Fano si arricchisce di due nuovi tasselli nella zona del Pincio grazie proprio alla collaborazione con eccellenze locali come i maestri carristi di Carnival Factory e Stark SRL Vediamo tutto in questo servizio di Simone Celli Non è Natale senza l'albero illuminato a festa ma non è Natale neppure senza presepe Ed è per questo che i giardini Roma del Pincio di Fano sono diventati la nuova location in cui celebrare la natività nel migliore dei modi Attraverso l'ultima creazione dei maestri carristi di Carnival Factory Un presepe a grandezza naturale realizzato in cartapesta e inserito all'interno di una struttura in legno della adriatica superficie Il tutto circondato da un'illuminazione davvero inedita Quanto lavoro ci è voluto per realizzare questo bel presepe? Allora è stato realizzato alla velocità della luce è stata un po' una lotta contro il tempo ma diciamo che in una ventina di giorni ce l'abbiamo fatta a finirlo ecco cominciarlo e finirlo Quante persone ci hanno lavorato? Abbiamo lavorato in quattro c'è chi si è occupato della modellazione, chi del colore, chi del rivestimento esterno, dell'indurimento e chi della finitura insomma È fondamentale che la città cominci a capire che i maestri carristi possono lavorare tutto l'anno per le manifestazioni della nostra città Quindi sono particolarmente felice che questo comincia a passare Quest'anno abbiamo questo magnifico presepe che con la prospettiva che nei prossimi anni si diventi sempre più grande E poi noi speriamo di vederci prestissimo per il nostro amato carnevale L'idea del presepe al Pincio è frutto di un brainstorming tra l'architetto Stefano Seri, il comune di Fano e la proloco Fano Unfortune Vero e proprio braccio operativo dell'amministrazione Siamo molto contenti di tutta la suggestione che è nata quest'anno per il Natale perché considerando tutto ciò, considerando tutta la situazione del momento Abbiamo secondo noi creato una bella cosa suggestiva eccetera Le luci sono fantastiche e speriamo nonostante tutto in un Natale migliore e in una luce migliore per tutti, per il nuovo 2021 Non solo presepe però, perché in un periodo in cui l'arte si ritrova confinata all'interno di musei resi inaccessibili dal Covid L'amministrazione comunale ha pensato di far uscire virtualmente allo scoperto le opere e i principali monumenti della città Proiettandoli direttamente sull'arco d'Augusto grazie al videomapping di un'altra eccellenza del territorio La Stark SRL Il tutto sotto l'attenta supervisione di Cesare Ottaviano Augusto C'è tanta collaborazione in città, tanta voglia di guardare al futuro in questo Natale così particolare Così la città di Fano si è veramente arricchita di una serie di installazioni in ogni punto della città Come il cielo stellato in piazza Costanzi, l'albero del signore Seri Porta Giulia e il grande albero di piazza 20 Settembre Oggi scopriamo questo Pincio, una location così suggestiva ma che ha un'ulteriore suggestione Quella dell'illuminazione, quello del presepe realizzato dai maestri carristi della città di Fano E anche quello della proiezione sull'arco d'Augusto che presenteremo proprio tra qualche istante Che rappresenta così la voglia di continuare a guardare le nostre identità artistiche e culturali Speriamo il prossimo anno di poter ripartire con il nostro programma White Dog Questo programma dedicato alle band emergenti che veniva registrato nei locali del nostro territorio Chiaramente l'abbiamo dovuto interrompere causa Covid Prossimo anno lo riprenderemo Alla conduzione di questo format TV c'è Max Casoli Che oggi però ve lo presentiamo in veste di cantante Perché ha appena finito la registrazione di questo nuovo singolo che si chiama Liberato Vediamo adesso anche un estratto del suo videoclip La cui regia è affidata a un altro collaboratore di Rossini TV, Francesco Mazzetti C'è chi dice che andrà bene che ce la faremo insieme Siamo un popolo di eroi che non ci arrendiamo mai Andrà tutto bene Tutto bene è un cast In tempi record è stato realizzato a livello di idea Nella prima pandemia dove mi sono trovato a casa E con la chitarra ho cercato di buttare giù le sensazioni che provavo In questa estensione spirituale tra depressione e vita familiare Che comunque è stata una cosa abbastanza piacevole Quindi alla base diciamo sentimenti contrastanti per un progetto che è nato in un periodo molto particolare E certo Diciamo che con Cane Bianco abbiamo sempre trattato argomenti di questo genere Ad esempio l'LP del 2013 dal titolo Intignato Parlava appunto della situazione praticamente umana Intignato non era altro che un parassita che di solito attacca i cani E si ciba delle cellule del cane, della pelle del cane E questa cosa diciamo purtroppo si allaccia molto bene alla realtà attuale Perché al di là del virus il vero problema è il nostro degrado come società Come a livello ambientale E questi sono i temi che abbiamo sempre trattato Ed è stato molto facile arrivare a realizzare Liberato Che poi è un sentimento personale dove mi sento addosso una situazione di non appartenenza a nulla e a nessuno E quindi per chi fosse interessato a conoscere Liberato questa nuova produzione dove è possibile trovarlo? Allora è possibile trovarlo innanzitutto su YouTube L'abbiamo già caricato il giorno dell'ultimo decreto di Conte E quindi alla voce Cane Bianco Liberato lo trovate E un altro progetto che è stato momentaneamente messo in pausa a causa del lockdown E della situazione che ci siamo trovati a vivere in questi mesi E anche una produzione invece di Rossini TV con la tua conduzione White Dog Ti ringrazio per la domanda perché ci tengo in particolar modo a questa situazione Che si è dovuta stoppare appunto per il lockdown Abbiamo registrato la puntata zero qui con Ruben dei Camillas E' andata molto bene, ha creato tante aspettative Abbiamo registrato la prima puntata al Caffè della Fortuna E' andata benissimo, abbiamo avuto come ospite Daniele Di Gregorio E il Trio Chaos, una band emergente che vedremo presto Perché comunque ha vinto il concorso di Arezzo Wave e si sta facendo strada Poi la seconda puntata che abbiamo registrato e andrà in onda al più presto Quando tutto riprenderà? Devo dire che questo l'abbiamo registrato al Brillo di Fermignano Un sacco di gente, sono successi anche nedoli molto interessanti Che però vi racconteremo strada facendo Perché White Dog è praticamente sospeso Ma riprenderà, riprenderà molto 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 più vivo e come dire, audace di prima Vedo il viso, il tuo sorriso e sono rinato Sono liberato E sono rinato Sono liberato E sono rinato Poi mi sono svegliato Libertà Libertà E allora davvero complimenti a Max Casoli E state collegati su Rossini TV Perché se siete appassionati di musica Il prossimo anno torneremo assolutamente con il programma White Dog Intanto andiamo a vedere di cosa parleremo questa sera in prima serata Alle 21.15 Vi mostreremo questa importante azienda agricola Che si chiama Nonno Ciro E a Vallefoglia E insomma vedrete il racconto di questa azienda familiare E poi vi ricordiamo anche che domani alle 17 in diretta Trasmetteremo la giornata delle Marche Le Marche che resistono, i nuovi eroi, testimoni del nostro tempo Non perdetevi questo appuntamento perché sarà in diretta in tutte le emittenti regionali E vi ricordiamo anche la partita in diretta su Rossini TV Ital Service Pesaro, Sandro, Abate e Avellino Alle ore 20.30 Non perdetevi questa giornata numero 30 In diretta dal Pala Nino Pizza E allora ho detto veramente tutto Io adesso vi lascio con il meteo Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione Domani alle 7.20 Buona serata Grazie a tutti